La crociata di Donald Trump contro l'ex presidente Barack Obama si scontra con la parola del direttore dell'FBI. James Comey ha chiesto al Dipartimento di Giustizia americano di smentire le accuse di Trump secondo cui l'amministrazione Obama lo avrebbe fatto intercettare a un mese dalle presidenziali. Domenica è arrivata la richiesta di un'indagine del Congresso sul possibile abuso di potere da parte di Obama. Sabato il tweet di Trump che ha scatenato un gravissimo scontro istituzionale. Di fronte alla richiesta di Comey, il Dipartimento di Giustizia guidato dal fedelissimo di Trump. Jeff Session non ha reagito. Intanto però a negare la possibilità di qualunque intercettazione ai danni dell'attuale presidente è stato James Clapper che fino al 20 gennaio era a capo di tutte le agenzie di spionaggio federali. Io non posso più fare commenti ufficiali ma come ex direttore dell'intelligence nazionale posso dire che non c'è stata alcuna intercettazione nei confronti di Donald Trump né quando era candidato né da presidente eletto né da presidente e nessuna intercettazione contro la sua campagna ha detto in un'intervista televisiva. Riguardo alle accuse di Trump il solo commento da parte di Obama è arrivato dal suo portavoce. Un principio chiave della sua amministrazione ha detto Kevin Lewis è stato sempre quello di non interferire con indagini indipendenti del Dipartimento di Giustizia.